Un intervento concreto che ho voluto fortemente è che la Lega ha voluto fortemente tutte le forze di maggioranza che va a favore di tutti i comuni sotto a 5.000 abitanti della regione Abruzzo. Tutti gli studenti da 11 a 26 anni avranno uno sconto del 10% sugli abbonamenti mensili o annuali. Quindi da oggi in poi e per il futuro sarà sempre così. Quindi nell'amministrazione precedente invece questa legge veniva fatta, cioè non era questa la legge ma c'erano delle agevolazioni legate ai paesi appartenenti all'ex comunità montane, di fatto rimanevano tantissimi comuni fuori magari a un chilometro di distanza dal comune che invece ne percepiva. Quindi noi oltre a sanare una stortura, possiamo dire così, comunque un'ingiustizia sociale, siamo andati incontro a delle esigenze, specie nel periodo che viviamo, molto sentite. In più ritengo che abbia anche un atto, che abbia un valore simbolico, perché noi siamo voluti andare come in Lega, proprio vogliamo dare un segnale ai paesi più piccoli. Quindi ai paesi che comunque spesso si sentono indietro, ma per noi non lo sono affatti, anzi non li mettiamo al primo posto. Noi siamo sempre per quelli che vogliono andare incontro alle esigenze del territorio.